All'indomani dello sbarco di migranti al porto di Salerno, chiarita dal Viminale la ridistribuzione sul territorio 256 su 387, resteranno nel Salernitano e gli altri fuori regione. Al microfono di Otto Channel la maggior parte dei cittadini si dice favorevole all'accoglienza. Per me gli uomini sono tutti uguali, né bianchi né neri, ed è una questione di civiltà accogliere. Sono accanto a queste povere persone perché al loro posto potremmo esserci noi. È un fatto estremamente positivo, se non c'è solidarietà è la fine di questa società. Io credo che i positivi in ogni caso ci siano anche qui in città, quindi che ben vengano comunque. C'è chi è d'accordo però con la linea precauzionale del governatore De Luca che chiedeva la quarantena a bordo per i 50 positivi al Covid. Ormai da anni che abbiamo questi sbarchi, quindi andrebbero un attimino gestiti a livello politico dall'alto, quindi non possiamo gestirli noi qui in una città dove non siamo nemmeno organizzati. È giusto accoglierli se ci sono le strutture, se non c'è nulla no. C'era la possibilità di fare una quarantena perché ho saputo che alcuni sono praticamente portatori di Covid. Era d'accordo con l'idea del governatore De Luca? Sicuramente, sicuramente d'accordo. Sulla questione il presidente De Luca ha chiarito in Campania, non sono accettabili altri sbarchi. La vicenda di Salerno è stata sgradevole, quasi clandestina. Nessuno ha avvertito le istituzioni territoriali.